Ma è questo che cos'è? Quello di cui avrei bisogno è qualcosa di caldo, leggermente speziato ma non troppo piccato. Cibo messicano. A che nome è la prenotazione? Signore Speedy Gonzales, è il topo più veloce di tutto il Mexico. Andale, andale, arriva, 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 arriva. Sono qui per qualche giorno di vacanza. Il nostro facchino l'accompagnerà alla sua stanza. Come andiamo, signor gato? Pronto? E sta bene, non fa niente, me la porto da solo. Scusa, dimenticavo, tieni pure il resto. Oggi gara di patinaggio. Molto interessante, credo proprio che mi iscriverò. Ma che gentili, per me hanno perfino tirato fuori il tappeto rosso. Allora, faccio in modo che possa entrare anche il mio amico. Allora, di un po', signor gato. Ce la facciamo una patinata? Andale andale! Arriba arriba arriba! Arriba eppa eppa eppa! Arriba arriba eppa! Eppa! Now I've gotcha! Arriba arriba arriba! Arriba arriba! Oh! Huuuuh! Unno 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 unno! Eeeeh! Odio il cibo di ospedale Andale, andale, arriva, arriva, arriva Buonas dia, signor gatto Te ho portato un regalino mexicano Che renderà il tuo cibo di ospedale un po' più caliente Arriba, arriva, arriva Andale, andale Arriba, arriva, arriva